E che cazzo ti guarda? Che cazzo vuoi? Non ho fatto niente. Allora perché scatti? Cazzo sei tu, eh? C'è uno che va di fretta, chi ha fatto rapina il santo spirito? E il nero ma qua non c'è stato. E dove lo troviamo, sto nero? Non lo so, quello è un cane sciorto, si fa vivo quando gli vanno. Allora fate gli arriva la voce, che il libanese vuol stare a cercare, altrimenti torniamo a finire l'opera. Cazzo ma tu sei libanese? E che cazzo ti guardi? Fa arrivare la voce amico tuo. Te l'ha fatto il libano.